Quanto è stato difficile anche da un punto di vista proprio delle energie nervose portare a termine questa stagione? È stata la cosa più stimolata l'energie nervose perché è normale che se tu ti approcci a un campionato già difficile di per sé come quello italiano in più lo devi fare con una penalizzazione che è meno sei, sei una nepromossa, hai un calendario nel finale neanche tanto agevole ti devi organizzare bene, devi dare fondo a tutte le energie fisiche, ci mancherebbe perché poi il calcio è uno sport e si deve correre ma soprattutto quelle mentali Mister di record in record, qualcuno dice già questo è il miglior allenatore nei 105 anni in storia di Atalanta A me fa piacere, voglio dire, ci mancherebbe anche perché sulla panchina dell'Atalanta si sono seduti tutti fior fior di allenatori, grandi professionisti quindi figuriamoci se a me non fa piacere, sicuramente i numeri stanno lì, sono a testimonianza del lavoro fatto bene poi entrare nelle preferenze non è mai facile però sono sicuro che il ricordo è buono I sogni di Colantuono per quanto riguarda il futuro, che ne so arrivare su una panchina di un top club? È chiaro che quando lavori bene possono esserci sirene ma come dicevo a qualcuno qualche settimana fa non mi interessa nulla Io sto bene qua, da parte mia non ci saranno cambiamenti per quello che riguarda lo scenario futuro Io l'Atalanta onestamente non la cambio con la stragrande maggioranza delle squadre che ci stanno in Italia ma basta guardare il campionato di quest'anno, togli le prime che chiaramente sono club importanti il Milan, l'Inter, la Roma, ci può essere poi il Nade Dalla Capitale non è mai arrivata un'offerta in questi via Non è importante parlare di questo onestamente, non interessa a nessuno, tanto io sto qui, non è che ci sono tanti problemi Quanto la preoccupa la possibilità di poter incappare in un'altra penalizzazione? Intanto questa prendiamola, ancora non c'è, quindi vedremo quello che succede sicuramente abbiamo più esperienza rispetto agli altri perché noi siamo l'unica squadra quest'anno che ha dovuto convivere con questa cosa e da quello che leggo e da quello che sento comunque eventualmente l'anno prossimo non saremo gli unici dovesse capitare una cosa del genere, quindi abbiamo creato veramente un bel gruppo non disperdiamo quello che abbiamo fatto, cerchiamo di mantenerlo anche l'anno prossimo evitando magari polemiche sterili che non servono a nulla perché anche l'anno prossimo sarà un campionato molto difficile e non abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti Addosso qui? Addosso sempre